la prima volta che il principe andriei aveva capito dove si trovasse che cosa gli fosse accaduto e aveva capito di essere stato ferito era stato quando la carrozza si era fermata a miziei e lui aveva chiesto di essere portato nell'isba ricaduto nell'incoscienza per il dolore si era riavuto un'altra volta nell'isba quando aveva bevuto il tè e lì richiamandosi di nuovo alla memoria tutto ciò che gli era accaduto più vivacemente di ogni cosa aveva ricordato proprio quel momento al posto di medicazione quando alla vista delle sofferenze di un uomo da lui odiato gli erano balenati nella mente pensieri mai avuti prima annunziatori di felicità e quei pensieri anche se in modo poco chiaro indefinito si erano adesso nuovamente impadroniti della sua anima si era ricordato che per lui adesso c'era una felicità nuova una felicità che aveva qualcosa a che vedere con il vangelo per questo aveva chiesto il vangelo ma la cattiva posizione a cui avevano costretto la sua ferita e poi quel nuovo rigirarlo avevano confuso da capo i suoi pensieri per la terza volta infine si ridestò alla vita nel silenzio assoluto della notte intorno a lui tutti dormivano un grillo strideva oltre il vestibolo nella strada qualcuno gridava e cantava gli scarafaggi frusciavano sul tavolo e sulle icone una pesante mosca autunnale sbatteva contro il suo capezzale intorno alla candela di sego che finendo di bruciare accanto a lui aveva formato un grosso fungo il suo spirito era in uno stato anormale un uomo sano di solito pensa sente e ricorda un'innumerevole quantità di cose nello stesso tempo ma il potere e la forza una volta scelta una certa serie di pensieri o di fenomeni di fissare su di essa tutta la sua attenzione un uomo sano anche nel momento della più profonda meditazione se ne può staccare per dire una parola cortese a qualcuno che entra e poi tornare di nuovo ai suoi pensieri lo spirito del principe andrea invece era da questo punto di vista in uno stato anormale tutte le sue energie mentali erano più attive più chiare che mai ma agivano al di fuori della sua volontà i pensieri e le immagini più diverse lo dominavano nello stesso istante a volte il suo pensiero cominciava a lavorare d'improvviso e con una forza una chiarezza una profondità che non era mai stato in grado di spiegare quando era in buona salute ma poi a un tratto nel pieno di quel lavoro si spezzava lasciando il posto a una qualsiasi imprevedibile rappresentazione e gli mancavano le forze per tornare a quella di prima sì mi si è svelata una felicità nuova inseparabile dall'uomo pensava il principe andrea mentre giaceva nella silenziosa semi oscurità dell'isba e guardava davanti a sé con gli occhi dilatati dalla febbre una felicità che si trova al di fuori delle forze materiali al di fuori delle influenze materiali che agiscono dall'esterno sull'uomo una felicità che è solo dell'anima la felicità dell'amore ogni uomo può capirla ma solo dio poteva immaginarla e prescriverla ma in qual modo dio ha prescritto questa legge perché il figlio tutto un tratto al corso di questi pensieri si ruppe il principe andreai udì senza sapere se fosse nel delirio o nella realtà udì una voce sommessa bisbiliante che ripeteva senza sosta ritmicamente tip 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 e poi tip e di nuovo tip tip e ancora tip insieme fra mezzo al suono di quella musica bisbiliante il principe andrea ebbe la sensazione che sopra il suo viso o proprio in mezzo si innalzasse uno strano aereo edificio fatto di sottili aghi o fuscelli capiva anche se gli riusciva assai difficile che doveva sforzarsi di mantenere l'equilibrio affinché l'edificio che andava innalzandosi non crollasse quello tuttavia crollava e poi di nuovo lentamente tornava ad innalzarsi al suono di quella musica ritmicamente bisbiliante si allunga si allunga continua ad estendersi e insieme si allunga si diceva il principe andreai e mentre ascoltava quel sussurro e aveva la sensazione dell'allungarsi e del reddersi in aria di quell'edificio di aghi vedeva a tratti anche la luce rossa alonata della candela e sentiva il fruscio degli scarafaggi e il ronzio della mosca che sbatteva contro il suo cuscino e contro il suo volto ogni volta che la mosca lo toccava gli dava una sensazione di bruciore nello stesso tempo si stupiva che urtando proprio nel punto in cui sul suo volto si andava erigendo l'edificio la mosca non lo facesse crollare c'era poi un'altra cosa molto importante un biancore accanto alla porta una statua di sfinge anch'essa gli dava un senso di oppressione forse la mia camicia posata sul tavolo pensava ai principi andrei e queste sono le mie gambe e quella è la porta ma perché tutto continua ad allungarsi e a spostarsi e pti 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 basta smettila ti prego smettila supplicava penosamente il principi andrei e di nuovo il pensiero e la coscienza affluirono in lui con insolita chiarezza e forza sì l'amore pensava di nuovo perfettamente lucido non però quell'amore ti ama per avere qualcosa in cambio per qualche motivo per qualche scopo ma l'amore che ho provato la prima volta quando in punto di morte ho visto il mio nemico e tuttavia l'ho amato ho provato quel sentimento d'amore che è l'essenza stessa dell'anima nel quale non occorre un oggetto determinato e anche adesso lo provo questo sentimento che dà tanta felicità amare il prossimo amare il nemico amare ogni cosa amare dio in tutto ciò in cui si manifesta una persona carola si può amare di amore umano ma il nemico si può amare soltanto di amore divino per questo ho provato tanta gioia quando ho sentito di amare quell'uomo che ne sarà di lui sarà vivo amando di amore umano dall'amore si può passare all'odio ma l'amore divino è immutabile nulla neanche la morte nulla può distruggerlo è l'essenza stessa dell'anima quante persone ho odiato nella mia vita invece e fra tutte nessuno ho amato e odiato più di lei e si rappresentò natasha del vivo non così come se la rappresentava prima soltanto con quel suo fascino che le dava tanta gioia ma raffigurandosi per la prima volta la sua anima e allora ne capì i sentimenti le sofferenze la vergogna il pentimento adesso per la prima volta comprendeva quanto crudele fosse stato il suo rifiuto se potessi rivederla anche una volta soltanto una volta soltanto guardarla in quegli occhi dirle e pci 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 bum picchiò la mosca e la sua attenzione si trasferì bruscamente in un altro mondo di realtà e delirio in cui stava accadendo qualcosa di straordinario sempre allo stesso modo in questo mondo continuava ad innalzarsi senza mai crollare quell'edificio qualcosa continuava ad allungarsi e la candela con l'alone rosso ardeva nello stesso modo e sempre quella camicia sfinge stava ferma accanto alla porta ma in più in quel modo c'era stato uno scricchiolio una ventata d'aria fresca e davanti alla porta era apparsa una nuova sfinge bianca eretta e il volto di questa sfinge aveva il pallore e gli occhi splendenti di quelli di natasha a cui proprio allora aveva pensato oh è terribile questo delirio incessante pensò il principe andrei cercando di scazzare via quel volto dalla sua immaginazione ma la figura bianca restava dinanzi a lui con tutta la forza della realtà e gli si avvicinava il principe andrei avrebbe voluto tornare al suo mondo di puri pensieri ma non gli riuscì e intanto il delirio lo trascinava nel suo dominio il sommesso mormorio della voce continuava il suo ritmico balbettio una sensazione di oppressione di tensione e lo strano volto fu lì davanti a lui il principe andrei raccolse tutte le sue forze per tornare in sé si mosse e ad un tratto sentì un terribile brusio alle orecchie gli occhi gli si appannarono e come un uomo che sprofondi nell'acqua perse i sensi quando rinvenne natasha proprio là in carne e ossa la persona che più di ogni altra egli avrebbe voluto amare di quel nuovo puro amore divino che ormai gli si era rivelato stava davanti a lui in ginocchio capì che quella era la viva reale natasha e non si meravigliò ma ne fu sommessamente felice stando così in ginocchio natasha lo guardava con occhi spauriti ma inchiodati su di lui non poteva fare il minimo movimento e tratteneva i singhiozzi il viso di lei era pallido e immobile solamente nella parte inferiore c'era un tremito leggero il principe andrei mandò un sospiro di sollievo sorrise e tese la mano vuoi disse che fortuna con un movimento rapido ma cauto natasha gli si accostò sulle ginocchia e prendendogli la mano con riguardo ci si chinò sopra col viso e cominciò a baciarla sfiorandola appena con le labbra perdonate disse in un bisbiglio sollevando la testa e guardandolo perdonatemi io vi amo disse il principe andrei perdonate che cosa perdonare domandò il principe andrei perdonatemi per quello che ho fatto disse natasha con un mormorio spezzato e appena percettibile e si mise a coprire la sua mano di baci sempre più fitti sempre sfiorandola leggermente con le labbra il mio amore per te è più grande di prima migliore di prima disse il principe andrei sollevando con la mano il volto di natasha per poterla guardare negli occhi quegli occhi inondati di lacrime di gioia lo fissavano timidi pietosi e gioiosamente amorevoli il viso magro e pallido di natasha con le labbra gonfie era pezzo che brutto era orribile ma il principe andrei non lo vedeva vedeva quegli occhi raggianti che erano meravigliosi e alle loro spalle si sentirono delle voci il cameriere piotr che ormai era completamente sveglio aveva svegliato anche il dottor timochil che non aveva dormito neppure per un istante a causa del dolore alla gamba già da un pezzo vedeva ciò che accadeva e stava tutto rannicchiato sulla panca attento a coprire col lenzuolo il proprio corpo svestito che cosa c'è? disse il dottore sollevandosi dal suo giaciglio vogliate allontanarvi signora in quello stesso momento bussò alla porta una cameriera inviata dalla contessa che nel frattempo si era accorta dell'assenza della figlia come una sonnambula destata improvvisamente nel mezzo del suo sogno Natasha uscì dalla stanza e tornata nella sua isba cadde sul letto singhiozzando da quel giorno per quanto durò ancora il viaggio dei Rostov in tutti i luoghi di sosta e di pernottamento Natasha non si staccò mai dal balconschi ferito e il dottore dovette riconoscere che non si sarebbe mai aspettato da una ragazza né tanta fermezza né tanta abilità nell'assistere un malato per quanto terribile sembrasse alla contessa il pensiero che il principe Andrei poteva cosa molto probabile a sentire il dottore morire durante il viaggio fra le braccia di sua figlia non riusciva tuttavia a ostacolare Natasha anche se in seguito al riavvicinamento ormai stabilitosi fra il principe Andrei ferito e Natasha tutti pensavano che in caso di guarigione si sarebbero rinnovati i loro antichi rapporti di fidanzamento nessuno e meno di tutti Natasha e il principe Andrei parlava di questo l'insoluta questione della vita e della morte che incombeva non solo sopra Volkonsky ma sopra la Russia intera teneva in disparte ogni altra considerazione il principe Andrei non solo sapeva che sarebbe morto ma sentiva che stava morendo sentiva d'essere già morto per metà provava un senso di straneità da ogni cosa terrena e insieme un'impressione strana e gioiosa di leggerezza senza fretta né ansia attendeva quello che doveva accadere quella cosa terribile eterna sconosciuta e lontana la cui presenza non aveva mai cessato di avvertire durante tutta la sua vita adesso gli era vicina e per quello strano stato di leggerezza in cui ora si trovava quasi comprensibile e percettibile prima aveva paura della fine due volte aveva provato quel terribile tormento della paura della morte della fine e adesso non lo capiva più la prima volta che aveva provato quel tormento era stato quando la granata si era messa a roteare come una trottola davanti ai suoi occhi e lui aveva alzato lo sguardo alle stoppie ai cespugli al cielo cosciente che lì davanti a lui c'era la morte quando dopo la ferita aveva ripreso i sensi e in fondo all'anima come se si fosse liberato dagli impicci della vita terrena era sbocciato quel fiore dell'amore eterno libero indipendente dalla vita la morte ormai non gli faceva più paura e aveva smesso di pensarci quanto più in quelle ore di penosa solitudine di semi-incoscienza trascorse dopo la ferita aveva riflettuto al nuovo principio dell'amore eterno che gli si era svelato tanto più senza vedersene si era venuto distaccando dalla vita terrena amare tutto tutti sacrificare in ogni momento se stesso per l'amore voleva dire non amare nessuno voleva dire non vivere di questa vita terrena e quanto più egli si compenetrava in quel principio d'amore tanto più rinunciava alla vita e tanto più radicalmente distruggeva quella terribile barriera che sta se non c'è l'amore fra la vita e la morte quando nei primi tempi della malattia pensava che avrebbe dovuto morire diceva a se stesso ebbene tanto meglio ma dopo quella notte a Mitici quando immerso in una sorta di delirio gli era apparsa con lei che aveva tanto desiderato e quando premendosi la mano di lei sulle labbra aveva pianto sommesse lacrime di gioia l'amore per quella donna si era inavvertitamente insinuato nel suo cuore e l'aveva nuovamente legato alla vita e pensieri gioiosi e tormentosi avevano cominciato ad attraversargli la mente e ricordava quel momento al posto di medicazione quando aveva scorto Kuragin non poteva più tornare al sentimento di allora ora lo tormentava soltanto la domanda se l'altro fosse ancora vivo e non osava chiederlo a nessuno la malattia aveva continuato il suo normale decorso ma quello che Anastasia chiamava gli è accaduto questo era sopravvenuto due giorni prima dell'arrivo della principessina Maria era stata un'estrema lotta interiore fra la vita e la morte in cui la morte era uscita vittoriosa era stata un'improvvisa consapevolezza di essere ancora attaccato alla vita che gli si presentava sotto la forma dell'amore per Natascia e l'ultimo definitivo accesso di terrore di fronte all'ignoto era sera come di solito dopo il pasto si trovava in un leggero stato febbrile e i suoi pensieri erano straordinariamente chiari Sonia era seduta al tavolo si era assopito a un tratto aveva invaso un'intensa sensazione di felicità ah è lei che è entrata aveva detto a se stesso effettivamente al posto di Sonia ora stava seduta Natascia che era appena entrata nella stanza a passi silenziosi da quando Natascia aveva cominciato ad assisterlo aveva sempre percepito nettamente la sensazione fisica della sua vicinanza gli stava seduta accanto nella poltrona girata verso di lui per ripararlo dalla luce della candela intenta a far la calza aveva imparato a far la calza da quando una volta il principi Andrei gli aveva detto che nessuno sa assistere meglio ai malati delle vecchie nanie che fanno la calza e che nell'atto di fare la calza c'è qualcosa che infonde calma le sue dita sottili muovevano rapidamente i ferri ed egli vedeva distintamente il profilo pensoso del suo viso chinato Natascia fece un movimento e il gomitolo le rotolò giù dalle ginocchia lei trassalì si voltò a guardarlo e facendo schermo alla candela con la mano si piegò con un movimento cauto flessuoso preciso raccolse il gomitolo e si rimise a sedere nella posizione di prima lui la guardava immobile e capiva che dopo il movimento che aveva fatto lei avrebbe avuto bisogno di tirare un sospiro profondo ma non si decideva a farlo e misurava il respiro con precauzione al convento di Troica avevano parlato del passato e lui le aveva detto che se fosse vissuto avrebbe ringraziato per sempre Dio della ferita che l'aveva riunito a lei ma da allora non avevano mai più parlato dell'avvenire potrà avverarsi questo o non potrà avverarsi pensava lui adesso osservandolo e ascoltando il leggero suono metallico dei ferri possibile che il destino mi abbia riunito in modo così strano a lei solo per poi farmi morire possibile che la verità della vita mi si sia svelata solo per farmi comprendere di aver vissuto nella menzogna io l'amo più di ogni altra cosa al mondo ma che devo farci se l'amo tanto disse e gli sfuggì un gemito per un'abitudine presa nel corso delle sue sofferenze sentendo quel suono Natasha aveva posato la calza si era piegata verso di lui e notando i suoi occhi lucidi si era avvicinata con passo leggero e si era chinata su di lui non dormite no vi sto guardando da un pezzo e vi ho sentita entrare nessuno come voi mi dà tanta pace tanta luce avrei voglia di piangere di gioia Natasha gli si avvicinò ancora di più il suo viso splendeva ad una gioia estatica Natasha io vi amo troppo vi amo più di ogni altra cosa al mondo e io si voltò per un attimo dall'altra parte e perché troppo disse perché troppo ditemi cosa pensate cosa sentite nell'anima proprio nel profondo dell'anima vivrò cosa pensate io ne sono sicura sicura gridò quasi Natasha stringendogli tutte e due le mani con un gesto appassionato e gli tacque per un po' come sarebbe bello disse e prendendole una mano gliela baciò Natasha era felice e sconvolta ma subito si riscosse ricordò che non si poteva fare così e lui aveva bisogno di tranquillità però non dormivate disse tentando di soffocare la propria gioia cercate di addormentarvi vi prego le strinse la mano prima di lasciarla andare e lei tornò verso la candela e si sedette nella posizione di prima due volte si voltò a guardarlo gli occhi di lui continuavano a fissarla scintillanti allora si obbligò a fare un certo numero di maglie dicendo a se stessa che non si sarebbe voltata a guardarlo finché non le avesse terminate di fatti poco dopo lui chiese gli occhi e si addormentò ma non dormì a lungo e si svegliò d'improvviso coperto da un sudore gelido addormentandosi aveva continuato a pensare a ciò che aveva tenuto occupato il suo pensiero per tutto quel tempo alla vita e alla morte e soprattutto alla morte la sentiva più vicina l'amore che cos'è l'amore pensava l'amore è d'ostacolo alla morte l'amore è vita capisco solo quello che amo tutto è tutto esiste soltanto perché io amo tutto è tenuto in vita dall'amore l'amore è dio e per me parte infinitesimale dell'amore morire significa ritornare alla sorgente eterna e universale questi pensieri gli parvero rassicuranti ma erano soltanto pensieri in essi mancava qualcosa c'era qualcosa di unilaterale di soggettivo di intellettualistico mancava l'evidenza e restava sempre la stessa inquietudine la stessa incertezza poi si addormentò in sogno si vide coricato nella stessa stanza in cui davvero si trovava ma non era ferito stava bene molte persone insignificanti indifferenti stanno davanti a lui e lui parla con loro discute di cose senza importanza quelle persone sanno per partire per chissà dove il principe andrei ha la vaga sensazione che tutto questo sia insensato ricorda di avere molte altre preoccupazioni più importanti ma continua a pronunciare parole vuote e argute destando la meraviglia dei presenti a poco a poco inavvertitamente tutte queste persone cominciano a sparire e a tutto si sostituisce la questione della porta è chiusa ma non sbarrata lui si alza e va alla porta per chiuderla col catenaccio tutto sembra dipendere dal fatto che riesca o meno a chiudere la porta fa per muoversi per avviarsi ma le sue gambe non si muovono sa che non riuscirà a chiudere la porta e tuttavia si tende dolorosamente al limite delle proprie forze è una paura terrificante si impossessa di lui è la paura della morte al di là della porta c'è quella cosa ma quando arriva con movimenti stentati a goffi e trascinandosi fino alla porta quella cosa terribile incalzando dall'altra parte la spinge vi preme contro qualcosa di sovrumano la morte fa impeto contro la porta ed è necessario trattenerla lui si aggrappa alla porta fa un estremo sforzo chiuderla ormai è impossibile almeno per trattenerla ma le sue forze sono deboli maldestre e la porta premuta da quella cosa orrenda si apre e poi di nuovo si richiude ancora una volta dall'altra parte della soglia si sentì spingere gli ultimi sforzi furono vani e i due battenti si aprirono senza rumore la cosa entrò la cosa era la morte e il principe andrei moriva ma in quel momento stesso il principe andrei si ricordò che dormiva e nel momento stesso in cui moriva compiendo uno sforzo su se stesso si svegliò sì questa era la morte io sono morto e mi sono svegliato sì la morte è un risveglio la sua anima fu come illuminata da questo pensiero e il velo che finora aveva nascosto l'ignoto si sollevò dinanzi allo sguardo della sua mente ebbe la sensazione che dentro di lui si riberasse una forza che finora era stata violentamente costretta e per la prima volta avvertì quello strano senso di leggerezza che da allora non lo abbandonò mai quando svegliatosi in un sudore freddo si era agitato sul divano Natasha si era avvicinata e gli aveva domandato che cosa avesse lui non ne aveva risposto e l'aveva guardata in modo strano senza capire cosa gli dicesse ecco cosa gli era successo due giorni prima dell'arrivo della principessina Maria da quel giorno come aveva detto il dottore la febbre che lo tormentava aveva preso un carattere maligno ma Natasha non si preoccupava di quello che diceva il dottore vedeva con i suoi stessi occhi quei tremendi sintomi mortali che per lei erano indiscutibili da quel giorno insieme al risveglio dal sonno per il principe Andrei era cominciato il risveglio dalla vita e in proporzione alla durata della vita esso non gli era sembrato più lento del risveglio dal sonno in proporzione alla durata del suo incubo non c'era nulla di terribile e di brusco in quel lento risveglio le ultime giornate e ore di lui trascorrevano in modo semplice e uguale la principessina Maria e Natasha non si allontanavano nemmeno per un attimo da lui lo sentivano non piangevano non tremavano e negli ultimi tempi consapevoli del suo peggioramento non era più lui che assistevano lui non c'era già più era già lontano ma il più vicino ricordo di lui il suo corpo era tanta in entrambe la forza del loro sentimento che non si impressionavano per l'aspetto esteriore pauroso della morte ne provavano il bisogno di esasperare il proprio dolore non piangevano né in sua presenza né lontano da lui e neanche parlavano mai di lui fra loro sentivano che non potevano esprimere a parole ciò che avevano compreso nell'intimo entrambe lo vedevano sprofondare sempre più giù sempre più lontano da loro chissà dove ed entrambe sapevano che così doveva essere che così era giusto ricevette gli ultimi sacramenti tutti vennero a dirgli addio quando gli portarono il figlio lo sfiorò appena con un bacio e poi si voltò dall'altra parte non perché provasse dolore e pietà la principessina Maria e Natascia lo capivano ma solo perché supponeva ad aver fatto tutto quello che da lui si aspettavano ma quando gli dissero di benedire il figlio esegui quanto ancora da lui si esigeva e volse intorno lo sguardo come per domandare se non occorresse fare altro quando sopravvennero le ultime contrazioni del corpo abbandonato dallo spirito la principessina Maria e Natascia erano presenti è finita disse la principessina Maria quando il corpo disteso innanzi a loro immobile da qualche minuto cominciò a raffreddarsi Natascia si avvicinò guardò gli occhi del marito e si affrettò a chiuderli li chiuse e anziché baciarli si appoggiò con la fronte a quello che era il più prossimo ricordo di lui dove è andato dov'è adesso quando il corpo lavato e vestito fu nella bara sul tavolo tutti si avvicinarono per rendergli l'estremo saluto e tutti piangevano Nicolusca piangeva per lo straziante sbigottimento che gli lacerava il cuore la contessa e Sonia piangevano per compassione di Natascia e perché lui non c'era più il vecchio conte piangeva perché presto lo sentiva anche lui avrebbe affrontato quel passo tremendo adesso anche Natascia e la principessina Maria piangevano ma non per il loro personale intimo dolore piangevano per la reverente commozione che aveva invaso le loro anime in presenza del semplice e solenne mistero della morte